buono buono buonissimo bravi ragazzi mi siete piaciuti stata la partita tranquilla l'unica cosa che mi ha fatto nervosire non siete stati voi quanto la piattaforma chiamata da zone di merda che non si chiama da son si chiama da zone di merda tutto attaccato vi giuro che il giorno che li toliranno i diritti come ho detto in live andrò a sborrare sulla loro sede perché noi non possiamo vedere un campionato con partite che si bloccano con login che non vanno a buon fine noi non possiamo perché veramente ci rimetterebbe la mia sanità mentale comunque del resto il milan oggi mi è sembrato il solito milan che comunque spreca diverse occasioni ma comunque l'ho visto solido ho visto milan molto simile a quello di fine campionato scorso il suo milan convinto due gol due bellissimi gol da due assist meravigliosi prima di decadere un po di leao che si porta a casa con le assist lo avevamo tanto criticato per non averlo visto le prime giornate invece a deciso così questa partita di zittire tutti e la prestazione è stata nel complesso magnifica e anche se comunque bisogna tenere conto dall'altro lato che il bologna tutto sommato mi tocca ammetterlo non l'ho vista tutta questa grande squadra stasera sono un po moscio perché non sto bene perché ho avuto la febbre questa notte quindi anche la direction è stata un po tosta da fare però ovviamente io ci metto sempre il mio impegno ci metto al massimo in tutte le cose che faccio ed è un piacere e ragazzi partiamo dai singoli leao ovviamente ha surclassato tutti stasera ha surclassato tutti e poi Giroud già lo dissi prima della partita boh non so oggi c'era aspettarsi qualcosa da Giroud e non mi sono sbagliato mi è piaciuto molto di Kettler che ha giocato 60 70 minuti ha trovato un asis meraviglioso per leao e un altro per Karulu che si è mangiato un gol davanti al potere incredibile e comunque anche la presazione nel centrocampo della difesa non va assolutamente puttata via guardate tonali guardate Karulu guarda anche Teo forse quello più sotto tono stasera che ho visto è stato Calabria che si è fatto pushando un paio di occasioni sappiamo che Calabria è un pochino sotto la media rispetto a che abbiamo in campo però anche lui alla fine sufficienza piena nessuno gli dice niente del resto è stato bellissimo sentire il pubblico rosso nero urlare quando è stato presentato Sansone nell'elettore delle formazioni un ragazzo che ci ha fatto un favore immenso l'anno scorso e non c'è tanto da commentare perché ripeto la partita è questa la partita perfetta non stravinci non vinci rosicando vinci bene vinci tranquillo vinci meritatamente hai le due occasioni a volte fai gol a volte non lo fai la testa rimane sempre sulle spalle soprattutto dietro non rischi niente perché dietro avete visto benissimo che non abbiamo rischiato praticamente niente a parte il palo di Sansone sulla punizione che ha tirato e quindi sono quelle partite che quando giochi bene oltre a battere le mani non ti resta tanto da dire anche a Pioli vi faccio i miei complimenti ha gestito bene i cambi tutto ha fatto in tale gabbia valuture cosa che in altri frangenti non avrebbe mai fatto invece si era fatto quindi nota di merito anche per quello ragazzi da me è tutto noi ci vediamo domani con la live reaction no domani o dopo domani insomma tempo di montarla adesso vado un po riposarmi perché non sto per niente bene sempre forza Milan e lunedì andiamo con la programmazione di GTA 4 bacione post partita corto ci sta i ragazzi ha giocato bene ha parlato più il campo che io stasera perché forse è l'unica soluzione grazie ragazzi alla prossima sempre forza Milan i campioni dell'italia siamo noi